Continua l'ondata di maltempo che da sabato notte sta flagellando il centro-sud. Per il capoluogo irpino i giorni più critici sono stati senza dubbio quelli del weekend appena trascorso che hanno visto in particolare domenica l'esondazione del Fenestrelle. Martedì e mercoledì la protezione civile ha diramato l'allerta arancione che si proterrà fino alle 6 di domattina. In vertù della situazione segnalata che preannuncia forti raffiche di vento e pioggia battente è scattata la psicosi che ha portato diversi comuni, compreso quello irpino, a diramare un'ordinanza di chiusura a scuole. Ieri, martedì 5 e oggi, mercoledì 6 novembre, le scuole sono rimaste chiuse. Il dato di cronaca è che a parte pochi momenti di pioggia intensa, seppur accompagnata dal vento, non sono stati registrati particolari disagi né interventi anche da parte dei vigili del fuoco che si stanno invece concentrando a Forino, dove la situazione critica resta per Celsi, in ostaggio dell'inghiottitoio che paralizza la cittadinanza in quella zona. Problemi soprattutto per le persone non autosufficienti o con problemi cronici, come idealizzati, che non avendo modo di spostarsi in autonomia fanno riferimento ai caschi rossi di Contrada Moretta che fungono da supporto logistico. Il maltempo ha fatto stanotte danni a Montella, dove un albero della villa comunale è caduto sulla struttura che ospita la Sagra della Castagna. L'evento non ha però subito slittamenti nelle date. Tante le polemiche sollevate sul web, sui vari gruppi WhatsApp in queste ore, in particolare dai genitori costretti dalle ordinanze sindacali a organizzarsi con i figli rimasti a casa. Molti si chiedono se le ordinanze tengano conto di un pericolo reale per la popolazione. I primi cittadini, come quelli di Avellino, Atripalda, Monte Calvariano, ma non solo, che hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici in virtù dell'allerta meteo, sono in realtà lasciati soli davanti a questa decisione che, per legge, si basa sul concetto della discrezionalità degli amministratori. La falla potrebbe essere in un sistema che scarseggia di figure come meteorologi, che supportino i sindaci nella lettura dei dati che compongono la voce all'erta meteo. Codice arancione non vuol dire necessariamente pericolo per la popolazione. Sulla questione è intervenuto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, che si è rivolto a Lanci, sollevando il problema. Noi sindaci, si legge nella missiva in conseguenza dei dati, si badi bene previsionali inviatici dalla protezione civile sulla scorta di algoritmi che talvolta impazziscono e finiscono per prendere i fischi per fiaschi, siamo costretti a decidere, tenendo conto da un lato della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e dall'altro della necessità di assicurare la continuità didattica.